Buongiorno dalla redazione di Udinews. Un grave incidente stradale in apertura di questo nostro Tg avvenuto nella notte a Udine in via Colussi, una laterale di via Planis. Il guidatore di un'auto è finito contro un furgone in sosta e ha perso la vita. La vittima è un sessantenne del posto originario comunque della provincia di Pordenone. L'uomo potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Incidente stradale ieri in tarda serata a Poincicco di Zoppola dove si sono scontrate tre auto nell'impatto ad avere la peggio una donna che rimasta incastrata nell'abitacolo della sua vettura. Sul posto i vigili del fuoco e il 118 che hanno soccorso la ferita trasportandola poi per le cure all'ospedale di Pordenone. I carabinieri hanno effettuato i rilievi dell'incidente. E a seguito delle modifiche del regolamento attuativo della legge regionale in materia di cooperazione sociale la regione ha organizzato una giornata informativa per presentare le novità in materia di concessione dei contributi e dei finanziamenti. Una giornata in corso di svolgimento proprio nella sede della regione a Udine da dove abbiamo collegata per noi Luciana Idelfonso. Buongiorno Luciana, te la linea? Ancora un istante e vediamo se riusciamo a collegarci con la nostra Luciana Idelfonso. Eccola, la vedo pronta nel nostro monitor di servizio. Sì Angela, grazie. Un saluto anche ai nostri telespettatori. Siamo qua per due eventi. Uno dedicato a quelle che sono le cooperative al mondo della disabilità con la regione che propone diciamo di nuovi regolamenti e quindi in corso c'è una conferenza stampa proprio per spiegare le varie amministrazioni, le detti ai lavori, come accedere alle domande. Una seconda dedicata a Sappada. Quindi più tardi anche nel nostro prossimo telegiornale parleremo anche di questo. A breve ti richiederò la linea invece con il primo ospite proprio per parlare del mondo della disabilità e per la richiesta dei contributi che si possono fare alla regione. A te la linea. Grazie Luciana per questo primo flash dalla regione. E a proposito di regione c'è da dire che il Friuli Venezia Giulia non ha ancora deciso nulla per il futuro assetto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia. Al momento è in corso una fase di consultazione del territorio ma entro il 2019 si arriverà a un disegno definitivo. Lo spiega Diego Bernardis, presidente della commissione regionale competente, anche rispondendo alle critiche del centro-sinistra per quanto riguarda l'ipotizzato assetto dell'Isontino. Allora sentiamo l'intervista realizzata da Francesca Santoro. Come presidente della commissione quinta e quindi la commissione che esaminerà il processo di riforma assieme all'assessore competente, l'assessore Roberti, il tutto è ancora in fase di discussione e diciamo in una fase di brainstorming. Quindi ci sono più idee come è giusto che sia da parte di tutte le forze politiche che costituiscono la maggioranza, però ancora un'idea ben definita non si è fatta. Quindi tutto questo processo dovrà scaturire dall'analisi e dal confronto con i rappresentanti delle istituzioni sul territorio, e stiamo parlando del territorio isontino, nessuno escluso, dovrà scaturire una soluzione condivisa, una soluzione partecipata, una soluzione come ho avuto modo di ribadire non calata dall'alto come era stato fatto con la riforma precedente, la 26 2014 e la costituzione delle UTI. Tengo anche a ribadire che la precedente amministrazione da questo punto di vista aveva smembrato il territorio dell'Isontino, tant'è che erano state costituite due UTI, una della destra isonzo e una della sinistra isonzo. Questo è un errore che noi non vogliamo affatto fare, quindi ci sarà questo percorso, un percorso che arriverà fino a fine anno e dentro la fine del 2019 noi siamo confidenti di poter approvare una nuova riforma degli enti locali. Parliamo di scuola adesso, parliamo di scuola perché questi sono i giorni in cui migliaia di studenti del Friuli Venezia Giulia devono scegliere la scuola che frequenteranno il prossimo anno scolastico, la scuola superiore. Una scelta a volte molto difficile e ne abbiamo parlato ieri sera anche nel corso del nostro speciale del Tg. Andiamo a risentire un estratto dell'approfondimento di ieri sera, andiamo a sentire le parole del dirigente scolastico Luca Gervasutti che ha sottolineato anche una delle difficoltà con la quale i ragazzi devono fare i conti quando devono scegliere. Ecco l'estratto della trasmissione di ieri. Intanto va detto che i consigli di classe forniscono alle famiglie e dunque anche ai ragazzi il cosiddetto consiglio orientativo. Spesso questo consiglio non viene seguito proprio perché sta avvenendo meno quello che è un patto tra la scuola e la famiglia. Diceva prima il dottor Pecile una volta le famiglie ascoltavano i consigli degli insegnanti e quindi i loro consigli venivano ottenuti in debita considerazione. Oggi purtroppo questo patto sta venendo meno, si sta sfaldando e quindi le famiglie, noto che tendono a sostituirsi sempre più all'istituzione scolastica e dunque agli attori dell'istituzione scolastica e tendono a proiettare sempre di più sui ragazzi, sui loro figli, quelli che sono le proprie aspettative. Io ho fatto il liceo classico, tu che sei mio figlio devi fare il liceo classico per continuare una tradizione familiare. Un altro errore molto grave che noto a compiere i genitori, molti genitori, non solo quando devono scegliere la scuola superiore, ma anche quando devono scegliere magari la scuola media o la scuola primaria, la scelgono basandosi sui propri ricordi personali. Io ho fatto quella scuola ai miei tempi, tu devi fare quella scuola, ma in realtà le cose sono cambiate, le scuole di una volta non esistono più e quindi bisogna andare sul posto, conoscere bene come si sono evolute le scuole, come si sono trasformate, conoscere quella che è l'offerta formativa, perché le cose cambiano e quindi bisogna restare al passo con i tempi. E continuiamo a parlare delle nostre trasmissioni di approfondimento aprendo la pagina sportiva, parlando di motori, perché come ogni mercoledì, oggi alle 18.30, l'appuntamento è con FWG motori a cura di Alberto Bertolotto, parleremo della Dakar con Mario Ravaccia di Fuoristrada Web. La corsa è alle ultime tappe, in fase di conclusione e tra gli aspetti che tratterà Alberto Bertolotto assieme al suo ospite e anche la presenza di un giocatore disabile proprio alla Dakar. Sentiamo un estratto della trasmissione. Nella Dakar, lo ricordiamo, sulle due ruote c'è il primo pilota paraplegico a guidare una moto, che è Nicola Dutto. Nicola Dutto, sì, Nicola Dutto, che ha fatto un grandissimo gesto a partecipare alla Dakar quest'anno, perché come sappiamo dopo un incidente avuto proprio qua a Pordenone, non può più camminare. Ha fatto cinque tappe e poi purtroppo è stato escluso dall'organizzazione con una decisione assurda. Ce la puoi appunto ricordare Mario? Sì, allora, lui era accompagnato da tre suoi amici motociclisti in gara, che lo aiutavano. Uno di questi ha avuto un guasto alla moto, si sono fermati tutti quanti per aiutarlo a ripararlo, sono arrivati al CP1 e gli hanno detto che potevano andare al CP3 come volevano, fuori percorso. Quindi hanno chiamato il furgone di assistenza, caricato le moto sui carrelli o sul furgone e sono arrivati al CP3. Al CP3 gli hanno detto, bene, se non siete arrivati per il percorso, siete squalificati. Sì, una decisione che ha fatto, giustamente, un po' sollevato... Ha fatto notizie e ha anche sollevato molti dubbi sull'organizzazione. Sembra esserci quasi un po' di ostracismo. Esatto, sulla serietà dell'organizzazione. Favorisce come sempre i loro piloti. Sicuramente. Su KTM, a questo punto, favorita con Price, c'è anche un altro pilota che gli può dare una mano, Cassanderland, c'è Wagner, direi di sì. A questo punto è tutto nelle loro mani. I giochi sono quasi fatti, sì. E' questo, per quanto riguarda un'anticipazione di FWG, motori di quest'oggi. Adesso ritorniamo dalla nostra Luciana Idelfonso, che sta seguendo, come detto per noi, nella sede della Regione questo convegno dedicato al mondo della cooperazione. Luciana, ti vedo in compagnia di un ospite. A voi la linea. Sì, grazie Angela. Sì, parliamo appunto di cooperative, di cooperazione sociale. Questo incontro, di cui si è appena conclusa la prima parte, che ha visto in sala anche tantissimi amministratori, oltre che gli addetti ai lavori. Allora, quali i punti che avete trattato? Sì, allora i punti che noi abbiamo trattato sono stati tutto l'iter che stiamo conducendo per l'attribuzione, diciamo, dei contributi e poi con la cooperazione. E quindi siamo a disposizione proprio della cooperazione, aiutando e facendo così comprendere anche il percorso che spesso è tortuoso, insomma, l'iter, no? Quindi abbiamo cercato di istituire cinque incontri in Regione, cioè il primo qui a Udine, a seguire appunto Trieste, Tolmezzo, Gorizia e Pordenone, dove incontreremo i rappresentanti della cooperazione e appunto parleremo con loro, apriremo anche un dibattito e saremo disponibili per le loro domande e a rispondere alle loro domande, ai loro quesiti e poi a tutti gli enti pubblici che possono stipulare a vario titolo delle convenzioni appunto con la cooperazione per creare un tessuto, diciamo, regionale e solidale. Dottoressa, al centro c'è la disabilità di questi contributi per la maggior parte delle opzioni, diciamo. Certamente si parla molto appunto delle cooperative anche B che chiaramente offrono il lavoro alle persone che hanno una, che sono portatrici di una disabilità e quindi credo che questo sia una grande espressione di civiltà e soprattutto, come dicevo, di solidarietà, di sostenibilità dell'insieme. E allora ringraziamo la nostra gentile ospite, la dottoressa Gianna Zammaro, direttore area politiche e sociali, perché adesso ci sarà la seconda parte invece di quello che è il convegno dedicato soprattutto a Federsanità e agli enti locali. Ti restituisco la linea a te. Grazie, grazie Luciana Idelfonso. Adesso noi andiamo allo stadio, andiamo alla Dacia Arena per le ultime novità sull'Udinese. Vedo pronto in sala stampa Jacopo Romeo. Buongiorno Jacopo, a te subito la linea. Buongiorno, buongiorno a te Angela, buongiorno anche ai nostri telespettatori. L'Udinese che questa mattina non sta lavorando, perché? Perché quest'oggi alle ore 15 ci sarà l'amichevole contro la profagagna, test contro una squadra di dilettanti, un po' come molte squadre fanno a metà settimana in vista dell'impegno del weekend per avere una sorta di prova generale prima di una gara che è molto importante per l'Udinese, innanzitutto perché si ritorna ad essere impegnati in una gara ufficiale dopo tre settimane e quindi c'è da tenere alto comunque il ritmo partita della squadra, perché una cosa sono gli allenamenti tanti ed intensi che la squadra di Nicola ha affrontato nel corso di queste settimane di sosta, un'altra cosa poi sono le dinamiche di gioco e anche alcuni accorgimenti che soltanto in partita si possono provare. In tal senso vedremo quale indicazioni emergeranno da questa amichevole che vi trasmetteremo in diretta dalle 14.30, calcio inizio fissato per le ore 15. Ci sono però anche delle notizie un po' così di contorno, perché ieri vi abbiamo detto che Rodrigo De Poller aveva saltato l'allenamento ma era stato dispensato per una giusta causa, in quanto la moglie, la compagna, stava per partorire, infatti Rodrigo De Poller è diventato papà proprio ieri sera di Francesca. Dunque auguri anche al numero 10 dell'Udinese, la sua figlia primogenita è nata proprio ieri sera e magari questa, anzi sicuramente questa sarà una motivazione in più per lui che è già stato un po' il trascinatore in termini di prestazioni di gol di questa squadra, il giorno è d'andata per voler dedicare subito un qualcosa di bello, una vittoria e magari un gol alla sua Francesca già nella gara di sabato contro il Parma. Sempre dai social, ancora da Instagram, ci arrivano altre notizie importanti, perché che poi è emerso anche quest'oggi sui giornali, che è stato scritto, Antonin Barak è qui a Udine, non giocherà la gara contro il Parma, come ha spiegato Nicola, ma sta proseguendo in un percorso personalizzato di terapie e anche di allenamento per i fastidi che ancora accusa alla schiena. Ha pubblicato infatti questa foto in spogliatoio, il suo posto in spogliatoio, dove i compagni hanno fatto una sorta di scherzo, hanno messo il giubbino con la sua foto, questo a testimoniare che il giocatore è qui, è passato anzi proprio pochi istanti fa, proprio qui dalla sala stampa per raggiungere lo spogliatoio, per continuare il suo percorso individuale di lavoro, quindi nonostante delle notizie che sono uscite anche sui giornali quest'oggi, il giocatore si trova qui a Udine, non sarà a disposizione della gara contro il Parma, ma questo ve lo stiamo dicendo già da giorni, lo aveva detto lo stesso Nicola, però insomma non c'è nessun caso, nessuno strappo e nessuna frattura, con Antonin che sta lavorando per recuperare quanto prima da questi fastidi un po' cronici alla schiena che ha avuto dal famoso riscaldamento pre-Udinese-Milan, questo un po' per chiudere il cerchio, anche per fare una doverosa puntualizzazione riguardo a quelle che sono tutte le notizie qui di casa Udinese. Ci aggiorneremo più tardi nelle prossime edizioni per seguire anche un po' la marcia di avvicinamento a questa amichevole e in generale alla gara contro il Parma di sabato. A te Angela. Grazie, grazie allora Jacopo Romeo anche per queste ultime news, noi adesso apriamo la pagina dedicata agli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, apriamo con il caso Brexit perché si riapre la partita della Brexit, l'accordo come abbiamo letto sui giornali di oggi, l'accordo sul divorzio dall'Unione Europea raggiunto a novembre dalla Premier Tory Teresa May con Bruxelles è stato bocciato dalla Camera dei Comuni Britannica con 432 no contro 202 sì. Il leader laborista Jeremy Corbyn ha presentato una mozione di sfiducia al governo Tory, ma al di là della questione della permanenza della May l'incognita è cosa può accadere ora a partire dal no deal, l'uscita senza accordo, una possibilità con la quale anche l'Unione Europea si sta misurando questa mattina nella plenaria a Strasburgo. E con la cronaca veniamo adesso in Italia, a Napoli, dove esplosa una bomba davanti all'ingresso della storica pizzeria Sorbillo, proprio nel cuore del centro storico di Napoli, nessun danno a persone, danneggiato solo l'ingresso della struttura, ma tanta paura per il boato che è stato avvertito e soprattutto stupore perché è stato colpito un brand ormai riconosciuto a cui fanno capo una serie di locali aperti in diverse città in Italia e anche all'estero. Lo stesso titolare Gino Sorbillo su Facebook annuncia che la pizzeria è chiusa per bomba, ma assicura riapriremo presto. Cinque anni fa la pizzeria di via Tribunali 32, dove c'è la storica sede, fu incendiata. E ancora una notizia che riguarda le immatricolazioni di auto in Europa, nell'Europa dei 28, sono stabili nel 2018. Circa 15.624.000 autovetture immatricolate lo scorso anno, lo 0,04% in meno rispetto al 2017. L'anno però si chiude con un dato negativo perché a dicembre sono state vendute circa un milione di vetture, l'8,7% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I dati sono dell'Associazione delle Case Automobilistiche Europee e da questi dati emerge anche una diminuzione delle immatricolazioni del gruppo FCA, meno 2,3% in meno rispetto al 2017. E siamo in chiusura di questa edizione del nostro OTG. Allora spazio alle previsioni del tempo, a cura come sempre dell'Osmer Arpa, previsioni che ci annunciano anche l'arrivo finalmente della neve in montagna. Io mi fermo qui, ci rivediamo a mezzogiorno. A più tardi. Un'altra giornata bella, è partita questa mattina, è una bella alba, il cielo è quasi ovunque sereno con qualche leggera velatura in quota, soprattutto sulle zone più orientali. Ancora freddo, direi sotto zero in pianura, soprattutto nell'Udinese, nel Polvenonese, dove il cielo è rimasto più sereno. Temperature naturalmente sotto zero in montagna, con il valore più basso, come sempre, a fusine con meno 11. La giornata rimarrà, direi, bella tutta la mattinata fino al pomeriggio. Poi nel pomeriggio cominceranno ad avvenzarsi delle nubi, nubi in genere basse, sulla bassa penura e sulla costa più orientale, dove c'è appunto se sarà via via variabile e poi più nuvoloso in serata. Mentre rimarrà in genere sereno, poco nuvoloso per il passaggio delle velature in quota sul resto della regione. Temperature massime, direi, attorno ai 9, forse 10 gradi su pienure costa oggi, sulla nostra regione. Da domani il cielo comincia a cambiare, dicevamo delle correnti da sud ovest, che portano queste nubi nel pomeriggio sera sulla bassa penura e sulla costa. Domani avremo cielo coperto su tutta la regione, salvo solo le prime ore del mattino, sulle cresta di confine con l'Austria, ancora forse qualche breve momento di sole, ma poi cielo ovunque coperto. Nel corso del primo pomeriggio cominceranno le prime deboli precipitazioni, deboli che oggi è su penura e costa e deboli nevicate in montagna, alti sopra degli 800-900 metri circa. Poi dalla serata di domani il fronte comincerà a essere più intenso sulla nostra regione e dalla serata di domani fino a tutta la mattinata di venerdì avremo piogge, direi, diffuse sulla regione, in genere comunque sempre deboli e moderate sulle zone più occidentali, più abbondanti invece su quelle orientali, anche nevicate in montagna con quota neve che andrà progressivamente abbassandosi fino ai 300-400 metri di venerdì mattina, nelle carniche saranno più abbondanti sulle giuglie e più moderate invece sulle carniche, ma insomma finalmente avremo un po' di neve di fuga su tutta la nostra montagna.